Un ben ritrovati a voi tutti cari telespettatori. Visita Genova questa mattina del vicepremiere, ministro dell'interno Matteo Salvini, che ha incontrato gli sfollati del ponte Morandi promettendo che tempi di ricostruzione e fondi da distribuire sono certi. Ai genovesi ha detto alla gente vedremo di restituire ciò che qualcuno ha tolto a partire dalle palanche. E intanto non si spengono le polemiche riguardo all'audio dello scorso 16 agosto finito sui giornali dove si sente il portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, che subito dopo il crollo del ponte se la prende con i giornalisti che lo chiamavano in continuo. Basta, non mi stressate la vita, si sente nell'audio. Io ho pure diritto a farmi magari un paio di giorni che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco, Santo Cristo. Oggi in una nota Casalino ha chiesto scusa per l'effetto prodotto da quelle parole. In ciò che ho detto, ha scritto il portavoce, non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Offende invece l'uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo su questa tragedia. Ma intanto si moltiplicano le richieste di dimissione di Casalino, da molti indicato come un'offesa per Genova e per i genovesi. Sarà la accordata Milano e Cortina che si contenderà la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026. Ad annunciarlo il presidente della Lombardia, Tilio Fontana, dopo la telefonata arrivata dal presidente del CONI, Giovanni Malagò. L'estromissione di Torino ha dapprima scatenato le reazioni del sindaco, Chiara Appendino, che si è detta interdetta sulla scelta di due regioni dove si deve edificare di sana pianta gli impianti che invece nel capoluogo piemontese sono già esistenti. L'Appendino si è anche rivolta al CONI chiedendo di portare in votazione i dossier affinché vengano analizzati i costi in modo analitico. Amareggiato anche il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che ancora una volta si è detto disponibile al dialogo qualora le montagne olimpiche del territorio possano ritagliarsi un ruolo anche senza la città di Torino. Reazioni polemiche da parte della minoranza sia comunale che regionale con la richiesta da più parti delle dimissioni del primo cittadino torinese. Dichiarazione unitaria tra gli assessori regionali all'ambiente di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sugli sforamenti dei limiti delle polveri sottili. La qualità dell'aria, hanno detto, va oltre i confini amministrativi e travalica ogni differenza di colore politico. Entro il 2020 l'obiettivo è armonizzare e rendere omogenee le norme e le misure applicate in un territorio che da solo produce il 50% del PIL nazionale e dove vivono 23 milioni di persone. Già a luglio hanno continuato i quattro assessori e abbiamo incontrato il ministro all'ambiente Costa per ribadire la volontà di continuare l'impegno condiviso negli ultimi anni anche con il governo nazionale suggellato dalla firma Bologna dell'accordo di Bacino-Padano nel giugno del 2017. Ora serve continuare con serietà ma per riuscirci, hanno terminato gli assessori, è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini. Ciascuno con i propri comportamenti quotidiani può fornire un grande contributo per il futuro delle nostre comunità. E' stato un lunedì difficile per i trasporti, per chi viaggia in autobus in città ad Alessandria o in Pullman in provincia. Due gli scioperi concomitanti, Amag Mobilità che gestisce il trasporto pubblico ad Alessandria e Arfea, l'azienda privata che invece si occupa del servizio extraurbano provinciale. L'astensione di Amag Mobilità ha avuto un'adesione che secondo i primi dati è stata piuttosto alta, circa 30 o 35 su quasi 160 dipendenti, con molte corse cancellate tra le ore 11 e le 15. Lo scioper è stato proclamato dal sindacato autonomo Faisa Cisal. Domani alle 12.30 ci sarà ancora un incontro in prefettura per trovare un punto di incontro tra i responsabili Amag Mobilità e sindacato autonomo. Differenti invece i motivi della protesta per Arfea, con un incontro previsto per venerdì mattina nella sede di Confindustria Alessandria, dove attorno al tavolo in questo caso siederanno i sindacati confederati e la proprietà. Si è avvalso della facoltà di non rispondere questa mattina in procura a Genova, Flavio Briatore, chiamato a rispondere di corruzione nell'ambito dell'inchiesta legata all'uso del suo yacht Force Blue, che ha portato agli arresti domiciliari l'ex commercialista del manager Andrea Parolini e l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Genova Walter Pardini. Secondo l'accusa quest'ultimo avrebbe dovuto chiudere la transazione fiscale di Briatore, aggiungendo tra le carte anche un riferimento circa l'incertezza della normativa da usare nel processo di secondo grado, a carico sempre di Briatore. Come contropartita il manager gli avrebbe mandato dei clienti nel resort in Kenya di proprietà di Pardini. Lo yacht fu sequestrato nel maggio di otto anni fa a largo di La Spezia, perché sarebbe stato usato per uso diportistico senza versare l'IVA dovuta pari a 3,6 milioni di euro. La Cassazione ha già annullato la condanna nei confronti di Briatore, rinviandola a un altro processo di secondo grado. I carabinieri della compagnia di Casale Monferrato e della stazione di Cerrina stanno svolgendo indagini per identificare la banda che la scorsa notte ha fatto esplodere il bancomat della BPM situato in via nazionale. La fortissima esplosione ha fatto saltare lo sportello e inoltre causato un dissesto statico all'edificio. A scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno fatto evacuare due famiglie residenti nel palazzo. Sulla stabilità dell'edificio sono in corso verifiche più approfondite da parte dei tecnici dei vigili del fuoco di Casale. Bene, occupiamoci adesso invece dell'ultimo fine settimana ad Alessandria che ha visto celebrare Gagliaudo tra i mercanti, tantissimi negozi aderenti, tante le iniziative inserite e anche tanta gente in giro per la città. Il resoconto di Fabrizio Mattana. Il sindaco lo aveva annunciato, dopo le polemiche per le troppe manifestazioni che si svolgevano contemporaneamente in città negli scorsi weekend, questa volta l'attenzione delle Alessandrine è stata catalizzata su un unico evento, Gagliaudo tra i mercanti. Unico si fa per dire perché la manifestazione non è stata soltanto una festa del commercio, ma ha richiuso in sé musica, arte e sport. Insomma, è riuscita ad accontentare i palati più fini, dei tantissimi visitatori sparsi in un lungo percorso, che ha praticamente interessato tutto il centro storico, allungandosi poi domenica in Piazza Marconi, Piazza Libertà, Piazza Garibaldi, Via San Lorenzo, Via Dante. La festa, che prende il nome da un personaggio della tradizione popolare alessandrina, che aguzzando l'ingegno salvò la città dall'assedio dell'imperatore Federico Barbarossa, è stata colorata da 170 bancarelle e 80 negozi aderenti che sono usciti all'esterno per l'occasione, con la novità che chi non aveva trovato spazi nelle vie di passeggio poteva arrivarci ugualmente grazie all'ospitalità di colleghi. Non solo bancarelle, abbiamo detto, ma anche buon cibo, spettacoli di luce, di danza, cultura in tutte le sue forme. Si è partiti sabato fino a notte fonda con il concerto di musica pop folcloristica a Liamamera, con manifestazioni collaterali come la giornata di sensibilizzazione per la donazione delle cellule staminali del sangue a cura dell'azienda ospedaliera dell'Admo, poi progetti dedicati al cucito e lo sport con la grande pallavolo. Il clou nella giornata di domenica, baciata da un tiepido sole, che ha unito al percorso commerciale spettacoli di danza, letture tratte dal libro Baudolino di Umberto Eco, danza e karaoke. Insomma, ce n'era per tutti i gusti, con grande soddisfazione dall'amministrazione comunale. L'assessore Mattia Rogero ha particolarmente apprezzato il gioco di squadra che si è creato, fattore che, come hanno affermato Vittorio Ferrari, presidente di Commercio Alessandria, e Alice Pedrazi, direttore di Ascom, contribuirà alla crescita delle aziende e del territorio. Un programma vincente è quello della ventesima edizione della rassegna, messo in piedi col contributo fattivo di Confesor Centi alla collaborazione di Amag Ambiente, che per il 2019 ha già proposto la creazione di un tavolo di concertazione per pianificare al meglio le offerte per far crescere le proposte turistiche e commerciali della città. È un serbo di 27 anni il vincitore della 51esima edizione del concorso internazionale di musica classica Michele Pittaluga. Al secondo e terzo posto si sono classificati due giovani polacchi. La serata finale si è tenuta nel teatro comunale, che è stato aperto eccezionalmente, senza però far registrare il tutto esaurito. Emma Camagna. Anche la Serbia ha scritto il proprio nome nell'albo d'oro del concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga alla 51esima edizione. A vincerelo infatti il serbo Vojn Kocik, 27 anni, che studia e insegna in Svizzera, tiene concerti nel mondo e al concorso si è presentato per la seconda volta. A lui sono andati 13.000 euro e una tournée nel mondo. Pure il pubblico, chiamato a sua volta a votare, ne ha decretato il successo. Secondo e terzo posto per i polacchi, Katarzina Smolarek e Daniel Egelman, 23-24 anni. Matricola lei alla quarta esperienza al Pittaluga, lui, dove nel 2014 aveva conquistato il secondo posto e il terzo l'anno successivo. Il loro premio è stato rispettivamente di 3.000-2.000 euro. Tutti e tre, premiati dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, hanno ricevuto molti altri riconoscimenti grazie all'isponso che fanno da corona agli enti istituzionali. Accompagnati dall'orchestra classica di Alessandria, diretta da Paolo Ferrara, i due uomini hanno suonato un brano di Manuel Maria Ponce, lei un concerto di Mario Castelnuovo tedesco. A esibirsi è stata pure la quindicenne barese Gabriella Perniola, vincitrice del quarto Pittaluga Junio, riservato alle giovanissime leghe. È stato il teatro comunale ad ospitare eccezionalmente la serata finale, ma gli Alessandrini non l'hanno apprezzato più di tanto. Erano vuote parecchie delle 500 sedie messe a disposizione. Paura di non trovare posto, timore per la scarsa comodità in una serata che dura tre ore, scarso interesse per il teatro non ancora agibile. Gli aficionados comunque c'erano tutti, come sempre. Buonasera. Bagno di folla a Torino per il primo weekend di visita della Cappella della Sindone, è riaperta dopo 21 anni dall'incendio che la danneggiò in modo grave. Grazie al costo simbolico di tre euro per visitare sia il Duomo che Palazzo Reale e i suoi giardini, sabato e domenica 14.000 tra turisti e torinesi hanno deciso di ammirare questa parte storica della città sabauda. Con la riapertura della Cappella del Guarini, nei prossimi anni i musei reali si apprestano a diventare uno dei più grandi complessi museali d'Italia. Dopo il restauro della Cappella è ora atteso il ripristino dell'altare sacro che custodiva la Sindone, anche esso quasi del tutto danneggiato dall'incendio. Dalle terre degli Aleramici alla Sicilia, la migrazione lombarda nella Sicilia arabo-normanna. Il titolo del convegno che prenderà il Via Palermo il 5 ottobre. L'iniziativa culturale è promossa dal Circolo dei Marchesi del Monferrato. Alessandra Della Cà. Gli Aleramici che nel Medioevo sono emigrati nella Sicilia governata dai normanni sbarcano nuovamente in Trinacria grazie ad un convegno promosso dal Circolo Culturale i Marchesi del Monferrato. L'appuntamento, articolato su Più Giorni, prende il Via il 5 ottobre a Palermo, nell'Officina di Studi Medievali, dove si parlerà di questa migrazione con un parterre di relatori di alto livello, provenienti anche dagli Stati Uniti. Nell'occasione sarà pure presentato il documentario Aleramici in Sicilia, Viaggio nel cuore della Sicilia aleramica normanna. Ci saranno inoltre una rievocazione storica ed esposizione di prodotti tipici piemontesi e siciliani. Il fenomeno migratorio inizia nell'undicesimo secolo, spiega Roberto Maestri, presidente del Circolo Culturale i Marchesi del Monferrato, e coinvolse migliaia di persone impegnate a ripopolare una terra fertile e accogliente. Cominciò così una storia, durata oltre tre secoli, che vide protagonisti nobili, commercianti, artigiani, contadini, avventurieri, che dalla marca Aleramica, Monferrato, Astigiano, Langhe e Savonese, raggiunsero la Sicilia. Qui venne a formarsi un'isola linguistica gallo-italica, e il convegno di approfondimento, che il 6 ottobre farà tappa a Corleone e il 7 a Piazza Armerina, mira a valorizzare in senso più ampio il turismo e l'enogastronomia di queste due terre agli antipodi dello Stivale. Numerosi partner coinvolti in un percorso di grande respiro culturale, nel segno della storia e delle alleanze che perdurano nei secoli. C'è attesa per conoscere chi sostituirà Marotta come amministratore delegato della Juventus, dopo che ha dichiarato ai microfoni di Sky sabato sera, subito dopo la fine dell'incontro tra Juve e Napoli, che la Juventus in un'ottica di rinnovamento non l'avrebbe più ammesso tra le sue fila. Questa mattina sono stati depositati i nominativi di quello che dovrà comporre il nuovo consiglio di amministrazione della Juventus. Non ci sono nomi nuovi, non c'è neppure quello di Paratici di cui si era tanto parlato, in quanto sarebbe stato lui a portare, a concludere il colpo con Cristiano Ronaldo. Intanto Fabrizio Mattana alla pagina sportiva ci parlerà proprio dell'incontro tra Juventus e Napoli, anche dello 0-0 dell'Alessandria Calcio con la Lucchese. Poi le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.